Finale terzo quarto posto, Solla più ballerino di prima e con il solito urlo riesce a piazzare un'inghiata vincente 0-0 ancora E lo brucia di messa Enzo vai di telecronaca Davide è il secondo calcio per prendere nel crostato Così si è scrostato però E' tutta pulizia Mi resta veramente per questi punti Non devi soccondere Invece sta soccondendo Non riesce ad attaccare La domanda è perché? E' Solla cerca di infortunare il suo avversario Fallo avversario Solla cerca di infortunare il suo avversario Ma l'avversario resiste Della serie tirate piano Della serie Davide secondo me proverà a quarantena spazzato Sicuramente E' un bel calcio nelle palline Al 74esimo calcio Al 74esimo calcio E' un bel calcio Nonostante l'urlo chiaio Kamehameha Kung fu di Solla nessun punto non si è capito bene Solla è stere fatto ma becca un calcio delle palle in compenso povero Solla dopo i due calci nel crostato arriva anche quello di Zebedei la sua mascolinità è in seguito pericolo e finisce l'incontro abbiamo il primo vincitore della Christmas Cup terzo posto un commento a caldo togli di i paura denti sei freddo? hai freddo? che posso dire? state bene incontro grazie a me per si vabbè stai atteggiando come il pazzo basta non ti intervisto più